I più giovani che si fanno coraggio, il presidente Mantovani che ostenta la solita serenità. Ma non è una domenica come le altre per la Samp, incapace di sorcizzare l'assenza per squalifica di Mancini. Non serve neanche far ricorso alla scaramanzia. Il sorriso, al di là delle apparenze, è tutto della Roma. Non che Carlos Bianchi si inventi qualcosa, ma certo la difesa, rivitalizzata da Tetrazza e Candelà, offre solide garanzie. Affanata invece la Sampdoria, che magari con Franceschetti si meriterebbe un rigore. Montella ha la solita convinzione, ma troppe responsabilità lo stremano. Inutile perfino che Ericsson lo inciti, tanto Mancini non c'è, anche se la diplomazia del tecnico è esemplare. Logicamente Mancini è furbo, ha esperienza, ha classe, è come tutti i grandi giocatori. Quando manca uno come lui, è chiaro che si sente. Il primo tempo vive dunque di tanta noia. Per molti la Sampdoria potrebbe essere l'antijuve, ed invece il sogno diventa incubo proprio allo scadere. Il contropiede della Roma è esemplare. Moriero coniuga potenza e precisione, e il vantaggio ospite si concretizza. L'1-0 è forse eccessivo per i meriti che i giallorossi convalidano invece dopo l'intervallo. Sulla fascia destra Moriero è imprendibile per l'Ego, ma non sempre le cose facili gli riescono. Sono lunghi minuti in cui la Samp a fatica si tiene in scia. La Roma offre invece un calcio veloce ma anche convincente. Sul più bello, Totti si fa ipnotizzare da Sereni, che per un po' evita il peggio. Nessuno rimpiange lo squalificato Ferron vedendo come il portiere si oppone a Balbo, o quando decide che la domenica di Moriero era già stata sufficientemente bella. Ma i giovani, si sa, spesso sono incostanti. Sereni, da Dottor Jekyll diventa Mr. Hyde, facendosi sfuggire un innocuo pallone che Balbo mette in rete. Non gli basta per rimanere capocannoniere, ma almeno garantisce il successo la Roma, nonostante i rimpianti di l'Ego. Nel primo 15 minuti non abbiamo giocato bene e là è fatto il secondo gol. Fatale per noi. Due gol di differenza pagano la Roma e scuotono la Samp. Il pomeriggio rivela anche sottilice e tensioni, su cui l'arbitro Boggi è abile nell'intervenire prima che possano divenire il filo conduttore del finale. E allora si gioca con Cervone che ripete quanto già visto nell'altra area. E dunque pallone che gli scappa via, Tetraze che prova a metterci una pezza, finché Montella non trova l'angolo che vuol dire 1-2. La Roma decide di rintanarsi perché l'ingresso di Salzano e la buona volontà cambiano fisionomia agli avversari. Certo per Moriero c'è ancora tempo di smarrirsi proprio sul più bello, ma rimane solo un dettaglio. Decisivo è invece quello che Cervone compie allo scadere quando Mialovic prova a farsi ricordare dei suoi ex compagni. Un numero che salva la seconda vittoria esterna dei giallorossi, ma che Erikson assorbe con serenità. L'importante è che non buttiamo giù la testa e pensiamo che è finito, perché la squadra è ancora molto fresca, ha molta fame. Vedremo domani che prossimo cosa facciamo. Peccato invece che la Roma continua ad imporsi un silenzio, diventato ormai...